Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze in Pluneta e il Vivio per la variante di Valico, per un veicolo in avaria a rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sulla Tpili un chilometro di coda per lavori in direzione Firenze, tra Impoli ed Empoli Est. In direzione Mare ci sono cote per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna. Chiusa la regionale 325 in località alla Briglia nel comune di Vaiano per il ribaltamento di un mezzo pesante. Sulla statale 223 di Paganico in direzione Grosseto chiuso il tratto all'altezza dello svincolo di Campagnatico. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.